Mi chiama un'ambulanza per favore, guarda a me mi sa che mi ha preso qualcosa, io non vedo doppio, non è che so' imbriago, è ancora presto la mattina, solo che in testutella mi pare da vedere che va tutti veloci, corre come i lepri, ma cosa c'è nel diavolo? Non si preoccupi, tutto normale, il nostro personale riesce a lavorare molto velocemente grazie alla fibra Netoip. Saria di? Tante promozioni, hanno un ping bassissimo. Ah, c'aveva un cagnolì che si chiama ping, oh, a parte il nome, ma mi sa che è triste un rabito, cos'è? I muciganti e i pulpacci per fare le cose così, oh, te pensa che io ho un amico mio, invece c'è un cagnolì, bravo, buono, tranquillo. Io ho detto, oh, ma come l'hai chiamato questo caccio buono? Ha detto, l'ho chiamato Stop, Stop, ma che nome gli hai dato? Ha detto, cosa ne so, mi ha detto che era un incrocio. Ho, ho, ho! Ahahahahahahahahahahaha